Parliamo di John Wick capitolo 4. Finalmente ho visto il film, ieri sera sono andato in sala, lo attendevo tantissimo, anche se non ricordo se l'avessi inserito nella lista dei film più attesi del 2023, fatto sta che l'abbiamo visto e mi è anche piaciuto, con qualche riserve in realtà, ma ne parliamo ovviamente in questo video. Io mi sono approcciato alla saga di John Wick relativamente da poco, ovvero dopo Parabellum, quindi dopo il terzo capitolo che è uscito nel 2019 se non sbaglio, non l'ho visto in sala, nessuno dei tre film li ho visti in sala, li ho visti poi tra Netflix, Prime Video, se li sono passati in quel periodo quindi ho avuto modo di recuperarli a casa, e dopo anche più visioni dei film mi sono sempre piaciuti, quindi li reputo davvero dei grandi film e anche a livello oggettivo secondo me la saga di John Wick come un unicum può essere considerata qualcosa di anche rivoluzionario, per quanto riguarda almeno l'action, i film d'azione americani. Possiamo dire che c'è un prima e un dopo John Wick, e naturalmente non perché Keanu Reeves ormai sembra una specie di Gesù, ma perché i propri film di John Wick hanno portato qualcosa di nuovo sul fronte action, film d'azione americano. Prima di iniziare con la recensione che come sempre sarà divisa in due parti, vi ricordo che in descrizione trovate i link di tutti i miei social, Instagram, TikTok, Twitter, Letterboxd, dove ho pubblicato una mini recensione appena uscito dalla sala, quindi se volete rimanere aggiornati su tutte le mie visioni, anche di film non usciti quest'anno e che non usciranno quest'anno, quindi film passati che inserisco nella lista, film visti nel 2023, seguitemi appunto su Letterboxd. Tanto i link sono tutti nella descrizione, assieme anche al link di Pampling e del Fantasia Store. Su Pampling in questo periodo ci sono le t-shirt a 10,90€, tutte le t-shirt del sito solo 10,90€, quindi affrettatevi se volete qualche design. Se inserirete il codice il pensiero 4 al momento del pagamento vi verranno regalati, vi verrà regalato un paio di calze gratis a scelta, e naturalmente mi aiuterete, quindi in questo caso vi ringrazio, mentre sul Fantasia Store potete trovare Funko Pop, manga, fumetti, giochi in scatola, carte collezionabili e tanto altro. E con il codice ANDRI5 avrete il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del sito. E entrambi i codici sono illimitati, quindi potete usarli da qui all'infinito. Ripeto ancora una volta che io attendevo questo quarto capitolo e ora che l'ho visto posso dire che mi è piaciuto. Mi è piaciuto però c'è qualcosa che non mi ha convinto, compreso il finale. Mi levo già questa parte del video e la metto da parte dicendo che naturalmente il film l'ho visto doppiato, quindi non posso parlare della recitazione, anche se comunque Keanu Reeves solitamente fa sempre Keanu Reeves nei film, come The Rock è sempre The Rock, come Raya Reynolds è sempre Raya Reynolds, però in questo caso secondo me è riuscito a fare qualcosina in più. Per lo più con le espressioni, non posso sapere come ha recitato sul lato parlato del film, però secondo me qualcosina in più l'ha data. Non che Keanu Reeves comunque non avesse dato prova di essere un discreto attore in passato, però per quanto riguarda John Wick è sempre stato molto monocorda nella recitazione, anche perché è questo che il personaggio vuole. A proposito di personaggi, quelli di questo film sono caratterizzati davvero in modo onesto, diciamo. Anche i cattivi per esempio non sono semplicemente quello che vuole distruggere il mondo, organizzare per conquistare il mondo, comunque un qualcosa del genere. E anche gli altri personaggi, compresi quelli che compaiono per poco, hanno un background interessante. Poi ci sono i personaggi che non hanno background ma sono lo stesso interessanti e proprio perché magari vengono... risultano misteriosi allo spettatore e questo mi è piaciuto. Parlando di John Wick è impossibile non citare le scene d'azione che qui non ci sono. Qui non ci sono scene d'azione. Questo film è azione. Non c'è un momento di freno, non c'è mai uno stop all'azione. Dai primi minuti John Wick inizia a fare casino e finisce col casino. Non c'è davvero mai uno stop. E l'azione di questo film, anche perché, ripeto, in qualche modo è stato rivoluzionario John Wick nei film d'azione, è stupenda. Ogni film va sempre migliorando. Naturalmente anche il regista, non ricordo adesso il nome del regista, che in passato era uno stuntman, nonché forse stuntman e controfigura proprio di Keanu Reeves in Matrix e in altri film, cosa davvero interessante. Ecco, ripeto, ogni film l'azione va sempre migliorando. In questo quarto capitolo è realizzata davvero in modo ottimo. Ci sono diversi piani sequenza, quindi delle scene che sembrano non staccare mai il punto focale della camera sul personaggio o sui personaggi, e sono realizzati davvero in modo ottimo. Soprattutto sul finale ci sono delle scene sulla strada, diciamo così, non farò spoiler in questa parte naturalmente, che sono ottime. Però per quanto riguarda le coreografie, e quello che sto dicendo è voluto dal film, sono più smorte. Non sto dicendo tutte le coreografie di combattimento di tutti i personaggi, ma solo quelle di John Wick. E ripeto, secondo me è più che voluta come cosa. Piccolo problema, ma questo riguarda assolutamente me, quindi non è un problema del film. Non ho rivisto Parabellum prima di andare in sala, quindi alcune cose mi sono sfuggite, non ricordavo esattamente. Ho cercato un po' di riassunti su internet, ma non è assolutamente la stessa cosa di rivedere il film. Quindi in qualcosina sono rimasto un po' così a cercare di ricordare, ma ripeto, è un problema mio. D'altra parte ho apprezzato che all'inizio non ci sia stato tre ore di spiegone per ricordare tutti gli altri film. Qualche spiegone c'è, naturalmente, ma non lunghissimo. A proposito di lunghezza e di durata, il film dura quasi tre ore. E secondo me questo è uno dei problemi del film, non è un problema mio. Perché per quel che racconta sarebbe potuto durare molto di meno. Anche semplicemente due ore, non due ore 40, due ore 46, quanto dura. Nonostante duri così tanto, però ci sono le scene d'azione, quindi... Anzi, c'è l'azione e basta, non ci sono scene d'azione e azione, che ti tiene fissato allo schermo. Quindi anche se sono quasi tre ore non si sentono tantissimo. Qualche volta mi è capitato di sbadigliare, anche perché l'ho visto di sera, sul Tardi, quindi... Magari ero stanco anch'io, però qualche volta mi è capitato. Potete stare tranquilli, però John Wick non è mai noioso, assolutamente. Per quanto riguarda la trama, è molto semplice, come del resto tutta la saga. Questa volta non ci sono cani morti, non gli viene ucciso il cane. Lui deve semplicemente, tra virgolette, entrare di nuovo nella famiglia degli assassini, comunque quello che era prima di avere la scomunica. E in pratica gira tutto su questo il film. Poi comunque c'è il nuovo Villain, interpretato da Bill Skarsgård, ovvero It, Pennywise. Questo marchese, che sarà anche per Bill Skarsgård, che riesce a fare i ruoli da Villain, secondo me, ma mette inquietudine come personaggio, soprattutto per qualcosina che fa durante lo svolgimento del film, ma allo stesso tempo noti qualcosa di troppo patetico in lui, quindi non riesce a spaventarti al 100%. Anche perché non è un personaggio che va in combattimento, non è un personaggio d'azione, più un burattinaio, diciamo così. Per quanto riguarda Kane, ovvero Ip Man, perché l'attore è quello, mi è piaciuto molto come personaggio, davvero tanto. È un Daredevil, diciamo così, perché è cieco, non ci vede, però distrugge tutti e tutto. E a me questi personaggi potenziati all'inverosimile, non che John Wick sia mai stato realistico, ma questi personaggi così mi piacciono da sempre, quindi non ho fatto altro che apprezzare ogni singola scena d'azione con Kane. Sicuramente è una delle cose migliori del film, assieme naturalmente alle scene d'azione in toto. Soprattutto grazie anche alla musica, ad un certo punto parte Pain in Black, che adoro sempre in qualsiasi film, persino in Black Adam l'ho apprezzata, e qui però è una cover diversa, non voglio dire altro perché dovete apprezzarla così a primo impatto. Ma passiamo direttamente al finale, ovviamente senza spoiler, perché forse è quello che mi rende più combattuto per parlarne in questo video, perché, ripeto, a me il film è piaciuto. Il finale anche è carino, mi è piaciuto lo stesso, però avrei preferito che presentassero quella cosa, quello che è successo, in modo diverso e soprattutto con una costruzione diversa. Però, ripeto, non posso disprezzarlo al 100% perché mi è piaciuto, effettivamente. E come scelta è assolutamente interessante, quindi sono curioso di vedere come andranno poi gli altri capitoli, gli altri film di questa saga. Il film è serie in realtà perché sono stati confermati comunque già Ballerina, che è uno spin-off di un personaggio che in teoria non è mai comparso nella saga, quindi sarà un personaggio nuovo, comparirà naturalmente John Wick nel film, la protagonista sarà Anna de Armas, poi ci sarà una serie prequel della saga di John Wick, non so se è di un solo capitolo comunque della saga intera, quindi non so se comparirà John Wick, non so se sarà nato John Wick perché la serie sarà sul Continental, quindi l'albergo di Winston. Winston che qui è un personaggio un po' strano come sempre in realtà perché torna ad essere amicone da una parte di John Wick, ma sempre in quel modo un po' subdolo, diciamo, anche se poi come si conclude il film fa intendere diverse cose. C'è una scena post-credit, quindi non andate via dopo i titoli di coda, quelli animati, c'è una scena post-credit interessante per il futuro della saga, quindi vi conviene guardarla. Ecco, una cosa prima di passare alla parte spoiler, in realtà vorrei dirla, che avevo voluto dirla prima ma mi è passata di mente, questo film ha uno stile molto videoludico e non sto parlando dell'impostazione grafica o qualcosa del genere, ma proprio a livello di storytelling, a livello di storyline, ci sono le quest in stile The Mandalorian, diciamo così, quindi John Wick per fare questo devi andare lì e fa casino lì. Ok, adesso torna qui e fai questa cosa, poi ti mando lì per fare un po' questa cosa che non apprezzo solitamente, ma in questo film non mi ha dato fastidio. Forse sì, ci sono alcune scene che anche per la lunghezza avrebbero potuto tranquillamente levare, però sono delle scene d'azione anche abbastanza violenti in certe parti, quindi ci può stare. Non ne avrei sentito la mancanza, ma già che ci sono comunque. Ma ragazzi, adesso se non avete visto il film vi invito ad uscire da questo video perché gli spoiler inizieranno fra poco, vi ricordo che ancora una volta che in descrizione ci sono i link importanti tra i miei social e Pampling e il Fantasia Store con rispettivi codici, il Pensiero 4 e Andri 5, gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. A livello spoiler in realtà vorrei parlarvi solamente del finale perché non c'è così tanto da spoilerare oltre al finale, se non appunto il personaggio di Bill Skarsgård che naturalmente muore, era abbastanza prevedibile come conclusione del personaggio, è il solito villain da un film e via, anche se comunque è abbastanza importante come classe sociale all'interno degli assassini della saga, però muore. Il modo in cui muore naturalmente è ottimo, ho apprezzato tantissimo la scena finale in stile Sergio Leone tra Kane e Keanu Reeves con tanto di anche riferimento musicale ai film di Leone e il modo in cui si conclude quella scena non può che farmi semplicemente impazzire perché è bellissimo. Era prevedibile anche che Kane diventasse di nuovo amico, anche perché non hanno mai smesso di essere amici, però Kane doveva per forza battersi o comunque uccidere proprio Keanu Reeves, e Keanu Reeves vabbè, John Wick, sono la stessa persona ormai, è impossibile distinguerli, però era prevedibile che comunque alla fine ci fosse un team up contro Bill Skarsgård e a livello di leggi, diciamo che le leggi dello scontro di quel duello hanno dato modo di realizzare questo patto tra i due. Poi a livello di morti nel film muore anche Sharon, ovvero il receptionist del Continental che è interpretato da Lance Reddick che è morto realmente qualche giorno fa e questo è stato davvero strano comunque vedere quella scena sapendo la realtà dei fatti. Tanto che comunque il film è stato anche dedicato a Lance Reddick, c'è un titolo finale, però tornando al finale del film appunto, cos'è che quindi non mi ha convinto al 100%? Sul finale del film John Wick muore. E non è questo quello che non mi ha convinto, bensì il modo in cui viene presentato. Il fatto che sia morto a me è piaciuto, non perché odiasse John Wick assolutamente, ma perché è comunque una conclusione interessante per il personaggio, soprattutto coraggiosa, anche perché non mi immaginavo nemmeno questo quarto capitolo fosse l'ultimo. Non me lo sarei mai aspettato come finale e mi ha lasciato davvero a bocca aperta. Però dopo tutto quello che gli è successo, morire in questo modo, non lo so. Ok che magari possiamo pensarla che lui si è lasciato morire per incontrare di nuovo la moglie. Nel film lui dice che non crede all'aldilà, non crede alla possibilità che la moglie lo sentisse pregare, quindi gli spiriti, il paradiso, l'inferno, comunque dice che non ci crede, però potrebbe sbagliarsi, quindi ha comunque una sorta di speranza. Quindi sul finale magari lui ha deciso di lasciarsi morire per dare un'ultima speranza a questa sua speranza. Però c'è davvero qualcosa che non mi convince in questa presentazione, soprattutto la scena sulle scale. Poi Winston, non ricordo chi fosse l'altro personaggio, forse Tracker, Tracker che comunque non ne ho parlato nella parte no spoiler, in realtà ho sbagliato perché avrei dovuto parlarne, è un personaggio interessante, molto sidekick, molto di secondo piano, nonostante dovesse uccidere proprio John Wick, comunque, tornando alla scena della tomba. John Wick messo assieme a Ellen Wick, la moglie, moglie amorevole, marito amorevole, l'ha voluto scritto lui per fare pandan con la lapide della moglie, quella scena mi è piaciuta molto. Anche perché forse, dico forse, un forse enorme, io spererei di no a questo punto perché sarebbe brutto come risvolto, potrebbe non essere morto, perché nel discorso di Winston e di Tracker, o comunque il personaggio che c'era, adesso non ricordo appunto se fosse Tracker, questo personaggio chiede a Winston dove sarà finito, all'inferno, in paradiso, ho sbagliato direzione, l'inferno, il paradiso, dove sarà finito? E Winston dice, non lo so, nessuno lo sa, una cosa del genere. E secondo me questo potrebbe essere anche un riferimento alla possibilità che lui ha fatto finta di morire per viversi la vita tranquillo di nuovo, nonostante appunto la morte della moglie, vivere gli ultimi suoi anni tranquillo senza rotture di scatole. Se dovesse essere così comunque non mi aspetto il ritorno di John Wick sulla scena come action man, perché allo stesso tempo sarebbe nuovamente inutile, però a questo punto spero nella morte certa e basta. Nella scena post-credit vediamo Kane che si sta per prendere una coltellata, almeno in teoria non se la prenderà mai, però sta per prendersi una coltellata dalla figlia di Gojin, non ricordo se si chiamava così il personaggio, che viene ucciso da Kane senza volere, non senza volere comunque a male in cuore, perché voleva ucciderlo a quel punto ma erano amici. E questo potrebbe essere uno dei modi in cui si presenterà il futuro di questa saga, secondo me. Adesso non so se ci sarà un film su Kane, potrebbe anche essere interessante, o un film proprio sulla figlia di Gojin, però magari già c'è Ana de Armas che farà ballerina, non lo so, vediamo. Anche perché sono curioso di scoprire a questo punto se ballerina, cioè ovviamente sarà un prequel, non penso sarà un sequel di John Wick 4, perché John Wick comparirà nel film, e voglio anche capire perché hanno deciso di fare questo spin-off su un personaggio in teoria mai comparso, io non ricordo di aver mai visto Ana de Armas in un film di John Wick, poi magari mi sto sbagliando, non li vedo da tanto i film, probabilmente dal 2020, però appunto non ricordo questa ballerina nei film. Ma ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine di questo video, io vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate voi di questo film, e se volete fare spoiler, mi raccomando, contrassegnate il vostro commento con la dicitura spoiler, poi lasciate qualche spazio e scrivete il commento per non rovinare il film a chi ancora non l'ha visto, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!